Il tempo incerto fino all'ultimo non ha fermato le 30.000 persone a corse da ogni parte d'Italia che nella giornata di ieri hanno affollato Viale Gramsci e tutto il centro storico di Fano. Una kermessa che ha conquistato tutti con il carnevale dedicato ai nonni e agli animali al mattino e con i maestosi giganti di cartapesta, alti fino a 18 metri, posizionati per la prima volta sin dalle 14 lungo il percorso per dare la possibilità al pubblico di poterli osservare da vicino. Dalle 15 poi i tradizionali trebotti hanno dato il via al corteo trionfale salutato dalle migliaia di Prendigetto 2015 realizzati da Paolo del Signore e che quest'anno hanno avuto la meglio sugli ombrelli grazie all'ordinanza del primo cittadino Massimo Seri che ne ha vetato l'utilizzo. Dunque un carnevale quest'anno già pieno di soddisfazioni e ricco di novità e che è riuscito a valorizzare le tante tipicità offerte dalla città della fortuna. Abbiamo puntato sulle eccellenze della nostra città come dicevi il carnevale, il brodetto, la moretta del carnevale e la romanità. Tutte le eccellenze di Fano quindi racchiuse nel carnevale che chiaramente è l'iniziativa, la festa più importante della nostra città. Devo dire veramente grazie a tutto lo staff della carnevalesca, a tutti i volontari, a tutti i carristi, trattorristi, alla protezione civile che ci hanno dato una grossa mano per far sì che questa manifestazione sia riuscita nel migliore dei modi. Grazie a tutti, buon carnevale, vi aspetto l'8 e il 15 qua da noi. Ad aprire la sfilata sono stati gli sbandieratori e i tamburi del gruppo storico La Pandolfaccia, Il Pupo, realizzato da Paolo Furlani e Gomma Piuma per Caso e Il Bugiardone. A seguire le due opere disegnate e realizzate da Matteo Angherà e Luca Vassilic, Halloween Circus Party 2015, su cui sventolava una bandiera italiana con un esplicito riferimento benaugurante al nuovo presidente della Repubblica Sergio Mattarella e inoltre la forza delle maschere in nodamore al carnevale. In corteo anche suggestivo le Battaglie del Metauro, realizzato da Paolo Furlani e Gomma Piuma per Caso, su cui campeggiava un insolito sindaco seri, soddisfatto per la riuscita dell'evento. Il tempo ci ha aiutato, eravamo un po' preoccupati questa mattina, non è caldo, però è calda l'atmosfera, c'è tanta gente e non si poteva iniziare in modo migliore, ma soprattutto si respira quella creatività che il carnevale di Pano sa esprimere e quella capacità di coinvolgere tutto il mondo fanese e non solo fanese. A chiudere la sfilata poi sono stati nel Paese delle Meraviglie, disegno e realizzazioni di Ruben e Eugenio Mariotti con protagonista il premier Renzi e il carro della musica arabita, che ha sfilato insieme alla Borghetti Bugaron Band e al suo inno del carnevale, avanti Eindri, che ha fatto ballare grandi e piccini sulle note del ritornello più amato dai fanesi. Decine i quintali di dolciumi lanciati sulla folla dai carri di prima categoria, ma in pista, presenti anche quelli di seconda come Tedag el Brudet di Daniele Mancini Palamoni e Allegria, realizzazione e disegno di Giorgio Barnesi, presenti nel sambodromo fanese insieme alle mascherate Imignon, realizzazione dell'Associazione Laboratorio Geniale, Costa Parchi, realizzata sempre dal medesimo laboratorio e da Daniele Mancini Palamoni, Caccia Grossa di Aqualagna e le bici di Montegranaro. Divertimento, balli e sorrisi anche sulle tribune riempite da centinaia di mascherate. Ad aggiudicarsi il primo premio del concorso Miglior Palco Mascherato è stato il gruppo WhatsApp Palco 37 e 38-39, seguito dal dolcissimo Tiramachi 32 e 33 e da I Love Spritz, palchi 34 e 35. Infine la festa si è spostata in Piazza 20 Settembre, grazie alla collaborazione del Comitato Apriamo il Centro con il concerto del Diavole e l'Acqua Santa e l'estrazione poi dei premi della Lotteria Solidale. Insomma si è conclusa la grande, la prima domenica della manifestazione capace di far rivivere la storia, l'arte, la cultura e la magia dell'evento più dolce d'Italia.